Salve a tutti, siamo qui all'omino nero delle notizie. Vi vorrei leggere una notizia, vi dice che praticamente è incredibile a Bentecoti. Il Verona porta sul 3-0, la squadra Cesena la riprende tutta nel secondo tempo. Toni che sale a 15 gol in campionato, ha 6 gol per Brienza, questo fa Toni. Poi il Verona butta via una partita stravinta, Cesena la riadrizza e conquista un pareggio preziosissimo, portandosi a meno 4 dalla salvezza. Nel 3-3 al Bentecoti succede di tutto, ci sono emozioni, errori, protezze, insomma di tutto. E comunque Toni che con questa doppietta sale a 4-35 diventa il miglior marcatore del Verona in armon Mascetti. Questa è la notizia e a presto, a prossimo. Per me sono un po' un picciolo dall'ultimo. Per me sono un po' un picciolo dall'ultimo. Grazie.